Benvenuti a questa nuova edizione del TG Knost. Oggi vi trasmettiamo l'intervista che Mimmo Catricalà ha rilasciato agli allievi del nostro centro di formazione professionale. Ascoltatelo attentamente. Cari ragazzi, allievi ed ex allievi che seguite sempre le nostre rubriche del TG Knost, oggi sono veramente onorato e contento di ospitare un grande mio amico. In genere è stato lui durante la mia attività a intervistarmi, questa volta invece tocca a me intervistarlo. Abbiamo Domenico, da tutti conosciuti come Mimmo, Mimmo Catricalà. Ragazzi, lo salutiamo con un bel applausino, intanto per iniziare. Mi fa piacere perché è venuto a trovarci, soprattutto per un altro motivo. Lui sarà uno dei tanti testimonial che avremo come ospiti durante la cerimonia di consegna degli attestati, dei ragazzi che ci sono qualificati l'anno scorso. Ma ho colto l'occasione per portarlo e presentarlo agli allievi più grandi, quelli di Quarta Automotive. Vedete che qui c'è anche presente il professor Fabio Gili, che segue il corso, insieme a me e ad altri colleghi formatori. E Mimmo, adesso ce lo faremo dire dalla sua viva voce, oltre a essere stato l'iniziatore di un'avventura bellissima, sto parlando della prima emittente radiofonica di Vercelli, Radio City, è stato anche un grosso organizzatore di concerti, sicuramente a livelli molto più alti di quelli che facevo io. Pensate che è stato il primo a portare Vasco Rossi a Vercelli, alla Pro Vercelli. Dicevo prima che qui da Corso Randaccio, all'epoca, riuscivamo ben a sentire distintamente il sound check di Vasco che stava provando alla Pro Vercelli, con impianti limitati, se vogliamo, per l'epoca, ma che nonostante tutto riuscirono a inondare tutta quanta la città di musiche e di note. È stato un successo strepitoso. Mimmo, sappiamo anche però che ha intrapreso un'attività sportiva non indifferente. E questo ci piace sottolinearlo, anche perché con i nostri ragazzi sottolineiamo sovente che il praticare uno sport sano, non di quelli così che magari bombano muscoli di qua di là, ma uno sport vero e sano è veramente un percorso di vita. Sicuramente, certo. È proprio come uomo di sport che volevo rivolgermi ai ragazzi, con onore tra l'altro, sono ospite, proprio in un momento particolare per loro, perché vengono chiamati e convocati per ricevere un premio. Questo mi onora maggiormente. Volevo appunto abbinare questo momento di vita a quello che può essere l'attesa di una maratona. Cioè, la vita è una maratona. Intanto, per partecipare, bisogna prepararsi. È bene, perché la prova è ardua. I primi chilometri, quando uno si accinge, sono facili, sono semplici, quasi divertenti, direi. Però man mano che si procede, poi, le difficoltà arrivano. È di qui che è necessario avere una buona preparazione, tanta umiltà, non pensare di essere dei campioni. E soprattutto molta determinazione, perché poi arrivano anche i momenti critici della vita, così come della corsa. Bisogna superarli. Ecco allora che ci vuole l'impegno. Questa corsa che, se vogliamo, possiamo paragonare a questi momenti particolari di questa brutta pandemia. E ma bisogna avere il coraggio. Il coraggio. In tutti i settori. In tutti i settori. Per poterla superare, certo. Unire il coraggio all'umiltà. Certo. Non so più, ma era in un film, Green Book mi pare, comunque un film molto importante. Che diceva, nella vita ci vuole coraggio. Il talento di per sé non basta. E rientrare nel cuore della gente ci vuole coraggio. Quindi, ragazzi, siete arrivati ai chilometri, non lo so, forse iniziali della vostra maratona. Però ricordate che arriveranno anche i chilometri difficili, quelli più vicini al traguardo. E bisogna superarli. Ecco che allora ci vuole un impegno, una determinazione sia fisica che mentale. Grazie, Mimo. Parole sante. Da questo punto, allora il traguardo può essere quello che aspiravate, al quale aspiravate e che naturalmente vi premierà. Mimo, volevo cogliere quest'occasione. Proprio oggi, o ieri al massimo, parliamo del 18-19 di gennaio dell'anno scorso, tu hai partecipato a una trasmissione seguitissima, Italia Got Talent, no? E ti sei presentato per sfidare e presentare quello che è il tuo record mondiale. Ce ne vuoi parlare brevemente? Sì, intanto io non seguivo quella trasmissione, mi sono trovato immerso, coinvolto, mio malgrado, però con piacere, perché era quasi un messaggio che volevo dare per conoscere questo sport. Uno dei tanti sport minori non conosciuti, ma che è fondamentale. Fondamentale, fondamentale per tutti gli altri sport. Oggi, senza pesistica, qualsiasi sport non ha una corretta interpretazione. Quindi, tramite amici mi hanno chiamato, ho detto, ma sì, perché no? Ben volentieri. Le mese prima avevo battuto il mio record, avevo conquistato il record a Malta, in una gara internazionale, sollevando 140 al chilogrammi. Scusami, Mimmo, se ti interrompo, vogliamo dire a tutti quanti quanti anni hai? Sì, oggi, oggi quanti? Sì, oggi. Allora, adesso. Beh, tra un mese sono 84. 84, eh, chapeau, come dice qualcuno. Prego. Avevo ottenuto questo record, vi dicendo. Quindi la prova consisteva in qualche cosa che fosse maggiore del record fatto. E quindi volevamo cimentarci, volevo cimentarmi in un 141. Il problema è che così apparentemente sembra molto semplice, però in effetti è stata più dura di una gara internazionale, partecipare ai contademi. Perché? Intanto ti trovi in un ambiente asettico, dove nessuno ti dice niente, non hai conoscenze, non hai... È un retropalco fatto di cavi, di scale, di attrezzi vari, compagnia bella. E tu lì ti devi, come dire, ambientare, devi crearti presupposti per la prova che devi affrontare. Quindi, tu aspetti che ti diano il via, non sai cosa troverai al di là della... Perché io non lo sapevo, che c'era pubblico, 3.000 persone. Eh, perché... Noi, 3.000 persone, forse in tutte le gare della mia vita non venivamo. Perché la trasmissione televisiva viene effettuata proprio all'interno di la città. E non sapevo nemmeno che c'era una giuria. Della giuria faceva parte? Faceva parte... Mara Maionchi? Bisio Maionchi, la Pellegrini e Matano. Eh, chiama poco. Quindi, al mattino, è stato convocato alle 9 del mattino, aspetta, aspetta. Chiaro che prima di fare una prova del genere, anche se di pochi secondi, ci vuole un pre-riscaldamento. Chiaramente non puoi arrivare lì la muscolatura, poi ne va anche dell'integrità fisica. Passano le ore, nessuno ti dice niente, tu sei lì, aspetti. A un certo punto mi avvisano, si prepari. Allora comincio a riscaldarmi. Il riscaldamento consiste in una serie di sollevamenti, di vario peso, fino ad arrivare più o meno alla prima prova. Mi alleno, mi preparo, mi riscaldo, mi dicendo, poi annullano la registrazione. Ecco, vabbè, pazienza. Arrivo a mezzogiorno, è ora di pranzare. E io dal mattino, alle 6, 6 e mezza, un certo appetito ce l'avevo. Però non sapevo quando avrei pronto, quando sarei stato richiamato nuovamente. Non sapevo, quindi non mi sono portato dietro barrette o integratori vari, eccetera, eccetera. Per cui mi portano un sacchettino con un panino e una Coca-Cola. Cosa proprio... All'opposto. Al che, ma poi, gentilmente, una delle hostess mi ha chiesto cosa desiderava, ha detto, ma un po' di riso condito. Mi hanno portato una ciotola di riso condito. Dopodiché, vengo richiamato per la prova. E torno, riscaldamento. Fatto tutta l'altra fila, annullato di nuovo. Siamo arrivati alle 6 del pomeriggio. Dal mattino, vero? Finalmente la terza prova l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. E sei risultato vincitore perché sei riuscito a sollevare. 141. 141 chili. Quindi, due... Un'ardisone e mezzo, più o meno, per fare un paragone. Si apre il sipario, ti trovi queste 3.000 persone che ovviamente non sanno chi sei, non sanno cosa fai, non conoscono lo sport. E quindi tutti dicono... Bene, bene. Questo atteggiamento... Mimmo, ti ringraziamo veramente per questa tua testimonianza. Anche per il compito di testimonial di uno dei tanti corsi che saranno premiati durante la cerimonia del 29 gennaio, che sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale del CNOSFAP Vercelli. Ti auguriamo, te l'auguro, i miei allievi, il direttore del centro, Don Gabriele Miglietta, tutto quanto il CNOSFAP di Vercelli. Augurarti ancora cent'anni mi sembra un po' esagerato. Però... Almeno ancora una ventina ce la facciamo. E sai cosa ti chiedo in diretta? Se puoi indossare, spero che la taglia sia giusta, la fai a Fadec NOSFAP che noi ti regaliamo. Questa volta vestiamo, facciamo la vestizione in diretta di questo grande amico. È un po' larghetta. E la centrifughiamo un po'. Comunque, grazie ragazzi, grazie a tutti quanti. Ancora tanti, tanti grazie a Mimmo Catricalà. Grazie. 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 Grazie.